Il Comune di Caltanissetta ha indetto un avviso per nominare il Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2024-2027. Le domande devono essere presentate entro le ore 14 del 21 novembre 2024 tramite PEC, consegna diretta raccomandata con ricevuta di ritorno. È richiesta una dichiarazione di possesso dei requisiti previsti. Le domande incomplete o inviate prima della pubblicazione non saranno considerate. La nomina avverrà tramite sorteggio da parte del Consiglio Comunale. Maggiori informazioni possono essere richieste al dottor Claudio Bennardo. L'avviso sarà disponibile online per 30 giorni.